Quello che è cambiato è stato che già nei primi giorni ho avuto degli strumenti per ottenere degli ottimi risultati anche nel parlare all'esterno con persone strane, anche nel parlare al telefono per esempio. Ho fatto il corso un anno fa e devo dire che fino a un anno fa non mi prendevo mai il caffè da sole adesso è un anno, vado a prendermi il caffè, vorrei un caffè. Le testimonianze che avete appena sentito sono di due signori ex balbuzienti che hanno deciso di affidarsi alla psicodizione per risolvere i loro problemi. E i risultati sono stati davvero sorprendenti, si tratta di un percorso di lezioni che consentirà a persone di ogni età di vincere le proprie paure, i propri blocchi attraverso momenti di condivisione, di letture, di interventi in pubblico. E a gestire questi corsi sarà la dottoressa Chiara Comastri, psicologa ed ex balbuziente. Avevo bisogno di non percepire proprio la sensazione di inceppi in mente e quindi psicodizione permette proprio di andare all'origine, permette di rimettere in vita la naturale comunicazione nei bambini, negli adulti, nei ragazzi ed è molto bello perché si affronta l'emozione, si affronta l'ansia, si impara a utilizzarla e si impara anche a gustarsi i suoni finalmente e poter essere liberi di esprimere se stessi sempre. E così all'hotel Cattullo di San Martino Buonalbergo dal 18 al 24 giugno dalle 15 alle 20 e 30 tutti i giorni si darà questo corso intensivo di psicodizione che permetterà di vedere i primi risultati già dopo alcuni giorni di lezioni. Sono bevete tonica e ho 13 anni. Il momento più forte per me è stata la presentazione in classe del corso. Lavoriamo da un punto di vista tecnico proprio sul togliere la paura per le persone di pronunciare i suoni, le T, le A, le S, le R, soprattutto quando si riparte dal silenzio e quindi diamo proprio la certezza di poter sapere sempre portare in vita il proprio suono. E poi si lavora sull'emozione perché facciamo parlare in pubblico, perché facciamo leggere in pubblico, perché facciamo andare per la strada e sotto emozione ottengono il risultato. Tutte le informazioni relativi al corso si possono trovare sul sito internet www.psicodizione.it che darà una panoramica effettiva di come lavora il gruppo e dei risultati significativi ottenuti negli anni.